anche l'aperitivo è uno dei momenti per stare insieme anche tra due persone questo è un aperitivo un pochino intimo tra me ricche una cosa semplice ma darà il via l'apertura una serie di video che riguarderanno gli aperitivi Abbiamo messo un po' di vino bianco frizzante Abbiamo poi aggiunto del ginger e poi una serie di stuzzichini delle sfogliate di mais croccante poi delle olive denocciolate e dei ceci tostati ceci tostati aromatizzati con varie spezie Vi lascerò poi nell'info box sulle schede il video apposito qui vi faccio solamente vedere una parte L'aperitivo è anche uno degli spunti per chi ama cucinare e inventare appunto in cucina un modo per preparare vari stuzzichini perché no? Questo sarà solo uno dei primi video e poi ne seguiranno altri dove daremo il via alla nostra fantasia Like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al nostro canale Grazie a tutti